c'è un po' c'è un raguetta porca mi sbaglio con un po' cosa si chiama, papà del guà? un raguetta un carone m***o ci carica questo treno veramente dove chiamano gli altri 2 c'è degli MMS, si guarda un po' dove ci sta caricando Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.